Il nostro programma è il programma delle tre A, attrattiva, un'imperia più attraente per i turisti e per i cittadini che decidono visitarla. L'altra A è l'attenzione che viene posta alle famiglie che hanno bisogno, ai bisogni dei cittadini stessi e infine la terza A è l'ascolto. Senza l'ascolto non ci può essere condivisione, non ci può essere democrazia. La nostra amministrazione avrà come base l'ascolto dei cittadini con le loro esigenze. L'attrattiva perché imperia tutti gli ingredienti per essere una città eccellente. Abbiamo il sole, il mare e l'enogastronomia. Tutto ciò che una città con una vocazione turistica può desiderare. L'attenzione, l'attenzione che viene data alle famiglie bisognose, a coloro che sono in cerca di lavoro, a coloro che non riescono a sbarcare il lunario, a coloro che hanno difficoltà, figli disabili, persone che si trovano in condizioni indigenti. La nostra amministrazione sarà per loro un punto di riferimento, un fermo punto di riferimento. Infine l'ascolto. I cittadini hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di essere considerati. Sono delle entità ben definite, degli esseri pensanti con dei bisogni e delle esigenze. I cittadini sono importanti per noi e per la nostra amministrazione.